La prima giornata, Girone B di Ricartea, MGM Moto, Simpone 3-1 su Giorbex, qui con me migliori in campo, nonché capitano, Massimo Monelli, Massimo, autore di un gran bel gol di destro, ottimo l'assist di Giacchia Monasteri. Insomma, Massimo, siete un'ottima squadra, siete un misto di primo stile dell'anno scorso, vi ho visto un po' imparati, a dire la verità, da un punto di vista tattico e anche un po' fisico. Tu invece come l'hai visto? No, ho trovato una bella partita, gli avversari, abbiamo disputato un'ottima partita. Noi dobbiamo giocare di più palla a terra, dobbiamo giocare di più palla a terra e correre di più. Abbiamo pregofiato, molto tempo che non giocavamo insieme. E infatti si è visto, ma comunque, a te lo scherzo, siete ottimi giocatori, però comunque il vostro scopo, ve lo siete prefissato tra le prime sedi di andare in Treg, oppure magari, insomma, ti vedo dare la giornata. No, no, noi puntiamo sempre in alto, sono i fotografici. Ma no... Siamo la semifinale dell'anno scorso, andiamo alla salvezza! Va bene, Massimo, io ti faccio il migliore complimento a te e a tutta la MGM, un saluto, complimenti a Charimon Asteri e tutta la squadra. Grazie a tutti, inciomati! Grazie a tutti.